Ciao Lari! Ciao Vlad! Che ne dici se ti invito al ristorante? Ma va, serio? Sì, sì, a pulire però. Cosa? Eh sì, devi aiutare. Ma io volevo un invito a cena, così potevo mangiare quanto caspita volevo. Ma no, io ti voglio invitare al ristorante per aiutarmi a pulire e servire i clienti. Vabbè, dopo avrai anche la cena. Ah beh, allora sì, volentieri. Però prima devi lavorare. Ok, va bene, certo. Oh, vedo che abbiamo diversi concorrenti, ognuno col proprio ristorante. Eh, ma il mio ristorante è più figo. Oh, spero di cavarmela, è la mia prima volta che lavoravo in un ristorante e spero di riuscire. Ok, benvenuti al Ristorante Rush. Che bello ristorante, bello pulito. Perché stanno per arrivare i clienti? Sono emozionata. Ok, allora, ho un tavolo sporco. Dov'è il mio tavolo sporco? Ok, l'ho pulito, l'ho pulito. Ok, sta arrivando il primo cliente. Il mio primo cliente che è uno scienziato. Vuole il chicken. Oh mio Dio. Io non so cosa vuole. Se ne esse, si editi, ti prego. Oh, anche il mio vuole il chicken. Sì, l'ho servito il mio primo cliente. Yeah, devo pulire il tavolo. Puliamo il tavolo, perfetto. Dov'è? Dov'è? Dov'è il pollo? Ti giuro, non lo trovo. Ah, qui c'è anche una dispensina. Oh, l'ho trovato, meno male, meno male. Te la stai cavando? Sì, 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 sì. Oh, devo ripulire i tavoli. Ok, ok, no. Ma abbiamo un altro cliente. Oh, anche quello vuole lo stick, ok? Sì, potevi anche sederti a uno di questi tavoli, eh, non è che dobbiamo andare per forza. Ma che fretta, che fretta che ho. Dov'è il biscotto? Ne arriva un altro, ne arriva un altro. Oh, Vlad, spero di farcela, spero di farcela. Sono straemozionata. Ma anch'io, io me la sto cavando per adesso. Ho servito biscotti. Anch'io, anch'io. Il mio cliente vuole il biscotto. Oh, ciao. È già il mio terzo cliente. Come sono falliti. Allora, tavolo, tavolo, tavolo. È stato bene. Vediamo cosa vuole il mio prossimo cliente. Signore, sì, sì, è da Cooked Chicken, ok? Vuole... Tutti che mangiano il pollo, si vede che lo cucino veramente strabine. Ah, sì? Sei la maga del pollo, io sono il mago dei biscotti. Oh, ok, ok. Cosa vuole questo snow cone? Oh, mio Dio. Cos'è? Una palla di neve. Ho un cliente che vuole una palla di neve. Ah, e vuole anche del pesce. Oh, caspita. Oh, caspita. Ah, stanno iniziando ad arrivare troppa gente. Anche da me c'è tutti i tavoli sporchi. Oh, no, 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 no. Oh, mio Dio, ok, ok. Allora, pesce, pesce, pesce. Qua avevo bisogno di un aiuto cuoco. Anch'io. Esatto. Ah, ai, ai, ai. Cosa vuole questo? Ma non ce la faccio da sola. Ma neanche io, è troppo difficile lavorare in un ristorante. Quello vuole la zuppa di funghi. Zuppa di funghi in arrivo. Zuppa di funghi anche lì. Non ce la faccio. Ah, sta per scappare il cliente. Non lo facciamolo andare via. No. È divertentissimo. No, quello cosa vuole? No, ho dato un altro al latte. Oh, no. Ah, brava, brava. Non capisci neanche cosa vogliono i clienti. No, c'è troppa gente, raga. Sto andando troppo bene. Il problema è che non riesco a stare al fasso. Aiuto. Cosa vuole questo? Questo vuole maiale. Oh, che combinazione? Mela più funghi. Veramente. Con che coraggio? Mela e funghi. Mela e funghi, veramente. Ah, questo vuole anche l'acqua. Caspiterina, vuoi l'acqua. Serviamoti l'acqua. Va bene, dai. Chicken. Poi. Oh, no. Un cliente se ne sta per andare. Ce l'hai fatta? Cioè, da me se ne sono andati non so quanti. Da me se ne è andato uno per adesso. Fuffa. Eh, ma adesso ho capito dov'è la roba in dispensa. Prima da scemo non sapevo. Sì, ho finito. No. Sono il più bravo chef del mondo. Io ho secondo posto. Sì. No, complimenti, complimenti. No, ma è stato bellissimo. Per la mia prima volta in un ristorante è stato veramente bello, mi è piaciuto. Ok, secondo round della... Cosa? Mi raccomando, allora, se la vinco, ok? Sì. Anzi, no, se perdo. Facciamo così. Se perdo, mi devi invitare a casa tua, ok? Non a cena fuori, a casa tua. A casa? E mi devi offrire, anzi, mi devi cucinare te la cena. Ok. No, va bene, va bene, va bene. Siamo d'accordo. Devi cucinare te. Va bene, va bene. Inizia la giornata dai clienti. Dai, signore, signore. Si sieda. Si sieda, signore. Prego. Prego. No, ho detto prego. Qui. Eh, vabbè, vado a totale. Prego. Grazie. Va bene, va bene, va bene. Come deciderei. Allora, vuole un po' di coniglio? Certo. Prego. Ok. No, ho detto prego. Grazie. Ok. Venga, prossimo cliente. Zuppa. Zuppa di funghi. Iniziamo già alla grande. Perfetto. Ma ti vedo, Flatti, ti vedo. Ma sì, dove sei? Finestra, finestra, finestra. Cosa vuole? Ah, ciao. Ciao. Ok, ok, io ho già avuto due clienti. Scusa, sono troppo impegnata. Sì, anch'io, tranquilla, tranquilla, ti capisco. Allora siamo concorrenti diretti, proprio il mio ristorante è a fianco al tuo. Ok, questo vuole una palla di neve, bene, ok, diamogli una palla di neve perché giustamente la palla di neve. Ma dai, sono terz'ultima, ma com'è possibile? Ah sì? Oh mio Dio, ma anch'io, ma io sono, ma perché? Ma sei massissima. Ma non è possibile, io sto facendo tutto giusto. Non lo so, si vede che gli altri sono molto più più rapidi di noi. Ok, ok, vuole il coniglio. Sì, è vero, è possibile che ti diano punteggio in base alla velocità con cui, dai, queste cose. Vuole una torta di vaniglia, va bene, diamo di una torta. Torta, poi c'è l'altro. Vuole una carota. Ok, c'è un cliente da me che vuole una carota. E basta. Ma dai, e mi è venuto per prendersi il, come si dice, l'acqua e basta. Ah, questo vuole acqua e... Ok, sì. Ah, so, io ho capito perché siamo ultimi, perché puliamo i tavoli più lentamente degli altri. Ma come? Eh sì, perché se lo pulisci subito ti dà cinque punti, se no te ne dà solo uno. Ah, ho capito. Hai capito. Sì, 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 sì. Vabbè, ma sono primo. Dai che sto facendo il sedere a tutta la mia concorrenza. Ah, allora sarai per forza bravo. Devo battere tutti. Oh, no, 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 te ne andare, no te ne andare. Ok, quello vuole l'acqua. No, 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 no. Sto stravincendo. No, io sono scarsissima, sono scarsissima. Ok, acqua, acqua 쓰 un soup. Questo vuole acqua e torchi beve un po' d'acqua con la torta, voglio dire. Va bene, dai, abbiamo 30 secondi fino alla chiusura. Ma piango. Ah, l'aria, mi dispiace.lovì. Poi quello vuole la torta Dai Lari che sei seconda Ma io ho stravinto Oh mio Dio Ho stravinto Ho fatto 82 punti Terza, terza Dai Lari che sei seconda No io ti vedo seconda Grande Ti inviterò lo stesso a cena Ok grazie mille Ci vediamo Ti aspetto Attenzione qualcuno a me è suonato al campanello Vlad sei in casa Ciao Entra pure Allora sono venuta perché mi hai promesso una cena Se avessi partecipato a quel mini giochino Allora anche se avessi vinto Io mi sono presentata comunque Vabbè sei arrivata a sé qua La tua casa è decorata a tema natalizio Sì 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 ho fatto qualche piccola ristrutturazione Oh questo divano è comodissimo Bello mi piace Poi hai detto un po' di luci nel natalizio Sì sto vedendo Ah qui c'è una stampante E qui una radiolina Bello 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 Seguimi vieni anche qui Se ti ricordi c'era la cucina con un megatavolo Sì ma vedo che hai modernizzato un bel po' di roba Eh sì Comunque Siediti pure mi raccomando Siediti qui Ho vedi già preparato Questa sera mangeremo Un po' di livello Pollo 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 Cos'è di spettacolo? No no va bene Non mi sembri tanto convinta Ciao Non mi sembri Mangiato Ah ok È buono Ah Mangiato Bene bene E di secondo E di secondo C'è il salmone cotto Ah ok Sì E l'hai cucinato Te sei andato sempre al ristorante Raccontami un po' di cose Ma no no Ho preparato tutto io Prima che arrivassi te Ma va Sì Seconda te perché ho vinto la sfida al ristorante Sono arrivato prima Seconda te non riesco a cucinare E altro da servire Eh vabbè E poi alla fine c'è il dessert Cosa vuoi la torta di zucca o i biscotti? Biscotti Non mi piace la zucca Oh Eh vabbè aspetta che la torta di zucca la metto qui da qualche parte Perché comunque fammi prendere un piettino La metto qui a posto Voglio vedere ancora Ah qui c'è la tv Sì Quella è la tv Bella Addirittura uno specchio Ciao Lari Ciao Poi qui c'è il cosino dei biscotti Come puoi vedere il barattolino dei biscotti Ah ho capito In effetti si saranno raffreddati Perché sai li ho messi in frigorifero in modo che si raffreddino Mi piace tantissimo questa cucina Dovrei vercelo anch'io Poi c'è la cappa che si è finito Devo andare a comprare una cucina Ma sì ma sicuramente Che bella Che bella Mi piace tanto Bene allora ti ringrazio per la cena Vlad spero che non sia l'ultima No anzi Devo mettere che hai cucinato bene La prossima volta la farai te Oh beh ci può stare Grazie dell'invito alla cena Bene 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 Allora oh si è fatto pure il giorno Nel frattempo Ciao Vlad Ciao 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 che bello Ciao 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 Grazie a tutti.